Pressione in temporaneo aumento sul centro nord Italia. Nelle prossime ore approfondimento di un minimo barico sul Golfo Ligure in spostamento verso il tirreno centrale meridionale. Da giovedì il minimo sarà centrato sull'Italia meridionale. In Toscana, mercoledì 25 novembre, aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni anche temporalesche sulla costa centrale dal pomeriggio. Venti deboli orientali moderati sulla costa, possibili colpi di vento durante i temporali, ma rimossi, temperature in calo più sensibile nei valori minimi con locali gelate sulle zone interne. Sul territorio provinciale il nuvoloso o velato ma con scarsa probabilità di precipitazioni. A Lucca e sulla Piana temperatura minima 2, massima 10 gradi. In Versilia e sul litorale minima 4, massima 13 gradi. In Garfagnana e zone montane minima 0, massima 9 gradi. Giovedì sereno o poco nuvoroso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.